Abbiamo già parlato ieri, ormai guardiamo avanti, non è che stiamo a parlare di Expo 2013, si sapeva che era una partita impossibile, abbiamo raccolto una sfida che era partita con una scelta di altri governi e di altre amministrazioni, noi abbiamo cercato di ottenere ma la partita ormai era compromessa quando abbiamo fatto di tutto, ma insomma erano già tutti impegni presi da altri stati, guardiamo avanti, guardiamo adesso al Giubileo, guardiamo alle Olimpiadi Invernali, dobbiamo fare tutto perché il Bob si svolga a Cesana perché è privo di senso far svolgere le Olimpiadi a San Moritz, tra l'altro l'impianto di San Moritz ha bisogno di più deroghe rispetto a quello di Cesana, quindi io credo che sia giusto andare lì, c'era l'impegno della Regione Piemonte, quindi lavoriamo per queste cose, il passato è successo, basta, fine, il valore di Roma è incommensurabile, forse l'occasione persa era quella delle Olimpiadi, non bisognava rinunciare alle Olimpiadi, quelle le avremo vinte, d'altronde l'Italia ha avuto pochi anni fa all'Expo, quindi due volte quasi di seguito, insomma era difficile, forse è stata sbagliata la scelta all'inizio, noi l'abbiamo difesa e sostenuta nell'interesse di Roma, forse bisognava non candidarsi all'Expo 2030 e magari bisognava invece candidarsi all'Estre Sede Olimpica perché questo sarebbe stato positivo, abbiamo preso anche gli europei di calcio.